Attimi di paura in via Correale a Nocera Inferiore. Durante un inseguimento infatti sarebbero stati sparati alcuni colpi in aria da parte dei carabinieri a scopo intimidatorio. Ad essere inseguita una Fiat Punto con all'interno due individui che non si sono fermati all'alt del posto di blocco dei carabinieri. Gli uomini dell'arma avrebbero già rintracciato l'auto in fuga e gli occupanti della stessa. Paura fra i pedoni presenti in zona, spaventati non poco da quanto accaduto.